vi lancia la vostra vita amorosa questa settimana farà un passettino in avanti o addirittura un gran passo in avanti per qualcuno di voi sembra che si stia avvicinando un clima particolarmente piacevole particolarmente ricco di belle emozioni di bei momenti anche da condividere insieme o alla persona amata o ai vostri amici magari familiari in ogni caso alle persone a cui in generale volete bene e che vi vogliono bene abbiamo la carta del latte e miele che sta proprio ad indicare la la gioia nel vivere le piccole cose non è semplice gioire per le piccole cose soprattutto di questi tempi soprattutto in questa società ma se l'energia è favorevole per farvelo fare tutto ciò che posso dirvi ragazzi e approfittatene godetevi questi momenti e soprattutto se questo è il momento di prendere degli impegni con qualcuno fatelo